Inizierà il prossimo 3 marzo, dinanzi alla Corte d'Assise di Bari, il processo da Antonio Moretti è rinviato a giudizio dal gruppo del Tribunale di Bari Sergio Di Paola, uno dei presunti killer che il 19 maggio del 2013 uccisero a colpi di Kalashnikov Vito Antonio Fiore, figlio del boss del quartiere San Pasquale di Bari, Antonio Romito e Claudio Fanelli. Gli altri siete imputati, accusati a vario titolo di omicidio, tentato a omicidio, porto e detenzione di armi di guerra e favoreggiamento, saranno processati con rito abbreviato. Si tratta di Giuseppe Ranieri, Vito Di Tullio, Vito e Luigi Milloni, Michele Ranave, Nicola Fumai e Donato Cassano. La requisitoria del pubblico ministero, Ciro Angelillis, è fissata all'udienza del 29 gennaio. La sentenza è prevista per aprile. Oltre al triplice omicidio del quartiere San Paolo, agli imputati sono contestati altri due episodi di sangue precedenti. L'omicidio del boss Giacomo Caracciolese del 5 aprile del 2013 ed il tentato omicidio del pregiudicato domenico Cantadice del 17 maggio. Nel processo sono costituiti i parti civili il comune di Bari ed i familiari di una delle vittime, Claudio Fanelli.